Sarà l'autopsia in programma per venerdì 17 giugno a chiarire i contorni ancora avvolti nel mistero della morte di Gianni Canestri, il 45enne ritrovato carbonizzato all'interno di un'auto martedì 14 giugno. L'uomo si trovava nel sedile posteriore di una Clio Blu parcheggiata in una strada secondaria della nave a Bibbiena. Ma intanto si starebbe indagando anche su alcune minacce che l'uomo avrebbe ricevuto nel mese di aprile. Sono ancora molti gli interrogativi in cerca di risposta in questo intricato giallo. Indubbiamente sarà però fondamentale l'esame autoptico che stabilirà la presenza o meno di fumo all'interno dei polmoni e chiarirà anche la causa della morte. Il 45enne era coinvolto insieme ad un commercialista in un processo in corso al Tribunale di Arezzo per presunte truffe alle banche. L'avvocato che lo difendeva ha dichiarato che l'uomo non sarebbe stato angosciato per questa vicenda. E viene sempre dal Casentino un altro episodio avvolto nel mistero. Alcuni giorni fa una donna mentre si trovava in un bosco nel territorio di Monte Mignaio alla ricerca di funghi si è imbattuta in un teschio umano. Sul caso è stato aperto un fascicolo.